Piani di Bobbio-Valtorta, versante di Piani di Bobbio e andiamo a fare l'ultima discesa sulla pista numero 5 Campelli. Lo splendido panorama che ci accoglie all'arrivo della seggiovia e iniziamo l'ultima discesa della giornata. Con il sole che si sta abbassando e il cielo che assume colori particolari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sta per finire la batteria della GoPro e qui finisce anche il video dell'ultima discesa della giornata. Metti mi piace, iscriviti al canale, guarda altri video, ce ne sono di vari generi. Ciao, alla prossima!